eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty ragazzi bentornati sul mio canale oggi veramente un sacco di belle chicche vi darò in anteprima nuovi contenuti per quanto riguarda il battle pass faremo anche il punto di quello che sta per accadere per quanto riguarda mv3 quindi mettetevi comodi lasciate un bel mi piace e scrivete se ancora non avete fatto per supportare il tg code giornaliero e salvatevi subito il primo link in descrizione che la mia collaborazione con e neba che vi permette di risparmiare tantissimi soldi sull'acquisto dei videogiochi nuovi del passato skin game pass tantissimi contenuti per xbox crediti per playstation il plus di playstation e guardate un po che sconti veramente incredibili ogni volta e dovete comprare con e neba comprati con il primo link così mi supporterete e poi vi aspetto alle 14 live piattaforma viola vi aspetto numerosi grazie veramente ieri eravate in tantissimi grazie veramente anche per tutti gli abbonamenti ieri sei stati veramente veramente di una generosità incredibile grazie veramente di cuore ma partiamo nel tg code perché vi comincio a dare un bel po di notizie vi ho già parlato di tutte le skin che arriveranno durante questa season 5 con tutti i punti della season 5 vi lascio come sempre il video in alto a destra vi comincio anche a far vedere che cosa arriverà in corso di season 5 perché questa è una delle immagini che è stata traverata direttamente dal blog ufficiale di call of duty vi posso far vedere ovviamente chi arriverà arriverà a mace direttamente da mv 2019 quindi uno degli operatori che avevamo già visto nel precedente titolo di mv2 non è finita qui perché sempre in corso di season 5 oltre all m13c che sarà una variante dell m13 che avevamo amato ad esempio su mv 2019 e sul primo warzone arriveranno altre tre armi una sicuramente farà felice gli amanti dell mp5 perché arriverà all mp5 versione sd questo mp5 sarà quello con il mirino metallico quindi col mirino di ferro classico mp5 standard che abbiamo amato su precedenti code come poteva essere ad esempio code 4 arriverà la pistola st 2011 e però e poi arriverà il pixax che sarà un'arma corpo a corpo quindi come già avevo già anticipato nei giorni passati ma parliamo un attimo delle prossime date che saranno veramente molto importanti legate a mv3 vi ricordo cosa molto importante ragazzi mi raccomando sentite bene relativamente ad mv3 il reveal ci sarà ad agosto loro dichiarano in season quindi questo farebbe pensare molto probabilmente a metà stagione perché quando dicono in season normalmente è a metà stagione infatti secondo quanto riportato dal direttamente dalle schermate di xbox ufficiale di cui abbiamo parlato nei giorni passati la season 5 reloaded dovrebbe iniziare intorno al 30 di agosto per terminare il 20 di settembre quindi 2 agosto 30 agosto season 5 30 agosto 20 settembre season 5 reloaded e poi la season 6 dal 20 settembre dovrebbe arrivare almeno ai primi di novembre per il rilascio del nuovo mv3 quindi al momento mettetevi queste come date nel calendario poi vi terrà aggiornati non appena arriverà l'annuncio ufficiale mentre le altre date molto importanti che dovete segnarvi per quanto riguarda mv3 riportate in anteprima da insider gaming avremo la beta weekend che andrà dal 6 al 10 sarà il weekend 1 esclusiva playstation poi nel weekend 2 dal 12 al 16 giocheranno sempre anche i giocatori playstation oltre a coloro che hanno fatto i preordini ma questo sempre anche nella prima settimana perché sarà sicuramente 6 8 con il preordine 8 10 senza preordine playstation dal 12 al 16 invece giocherà chiunque tranne per quanto riguarda la questione xbox e pc daranno sempre la possibilità nei primi due giorni a giocare di giocare a chi avrà fatto il preordine poi dal 14 al 16 sicuramente potranno giocare tutti indipendentemente dal preordine o meno la campagna in accesso anticipato nel preordine sembrerebbe essere fissata al 3 di novembre il lancio del gioco fissato al 10 di novembre con la season one il 5 di dicembre con l'integrazione a warzone e con l'arrivo della nuova mappa la salmas quindi queste ragazzi sono al momento le date più concrete riportate dal noto insider gaming che in passato non ha mai sbagliato un colpo quindi poi staremo a vedere se activision le cambierà leggermente intanto mettetevele nel calendario vi faccio vedere un recap per chi mi chiedeva ieri live notizie relativamente a dmz su dmz ci saranno interessanti novità con una nuova minaccia conni infatti saranno nuovi boss poi ci sarà la funzionalità mascheramento per farci apparire come membri dell'intelligenza artificial nemici ci sarà una nuova stimolante che offrirà adrenalina durante la rianimazione ci sarà la scatola con più casse quindi con più equipaggiamenti di auto rianimazione e arriverà la nuova funzionalità della maschera antigas subacqua quindi su dmz e novità interessanti a livello di gameplay ma parliamo un attimo del battle pass che me l'avete chiesto in tantissimi questi giorni finalmente ieri sono state trapelate le prime immagini stranamente questa volta il profilo di club beauty non ha rilasciato un trailer relativo al battle pass di season 5 ma soprattutto non ha rilasciato un blog relativamente al battle pass staremo a vedere se questa sera accadrà qualcosa vi ricordo season 5 che inizia domani tra le 18 e le 19 perché non non annunciano mai esattamente se c'è una questione relativa al fuso orario dalle 10 americane alle 19 o dalle 9 americane alle 18 quindi mettete tra le 18 e le 19 poi stasera finalmente arriverà l'orario ufficiale poi da domani mattina potrei iniziare a scaricarlo se siete su playstation con il pre download vi faccio vedere questa prima schermata del battle pass che poi era anche la key art ufficiale della season 5 con i nuovi operatori tra cui c'è anche bellican potremo vedere in prima versione quindi nella prima schermata il famas l'fr advance che sarà presente all'interno del pass questo invece è la schermata relativamente a chi comprerà il battle pass black cell con arthur e merlin il cane che lo accompagnerà nella mossa finale ma vi posso far vedere anche altre cose ecco in anteprima vi faccio vedere anche puntamare che è una mappa 6v6 che sarà presente all'interno del gioco ricordo un po favelas se ben vi ricordate questa bellissima mappa del vecchio mondo diciamo dei vecchi code e sarà appunto un punto di interesse secondo le informazioni della nuova mappa di warzone 2 la salvas la salvas la nuova mappa di warzone ieri sera chiude invece apro e chiudo parentesi è morto il doppiatore paul rubens che aveva doppiato se ben vi ricordate willard wyler nella modalità zombies ed infinite warfare modalità zombies che a mio avviso come già avevo detto era stata molto molto carina peccato povera di stare che però sinceramente interessante a livello di gameplay mentre entriamo nel vivo del battle pass perché vi faccio vedere i contenuti del black cell che dice che contiene oltre 7000 call of duty point di regali quindi ci sarà un tracker pack un'arma quindi tracker pack ci sarà la mossa finale appunto del cane un nuovo gun screen e poi ci saranno 20 livelli come sapevamo del battle pass con 1100 call of duty point ci saranno altri 6 pacchetti aggiuntivi di varianti armi 8 operatori skin come vedete sempre su quella tematica dell'oro e due veicoli skin tutto intorno sempre ai 30 euro come è stato nelle precedenti stagioni perché ogni stagione il black cell va ricomprato mentre quello da 1100 vi potete autofinanziare ogni season vi faccio vedere inoltre altre skin invece del battle pass nella versione standard quindi quella se comprate quella da 1100 quindi ci saranno anche skin per i nuovi veicoli ma soprattutto vi troverete anche varianti arma per le proprio le nuove armi accone tre in anteprima e poi qui potete vedere ad esempio le nuove skin per gli operatori con grace che sarà appunto quello nuovo una nuova skin per rose una nuova skin per ghost una nuova skin per alejandro una nuova skin per price che era stata anche svelata direttamente dal trailer della season 5 quindi diversi contenuti veramente molto corposo sembrerebbe essere uno dei battle pass più ricchi delle ultime stagioni a livello di skin anche nella versione da 1100 fatemi sapere che cosa ne pensate mi raccomando vi aspetta le 14 live piattaforma viola iscrivetevi se ancora non l'avete fatto un bel mi piace per supportare il tg code e noi ci vediamo domani con un nuovo video mondo no 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 no